signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale si avvicina il finale di stagione quindi cominciamo a chiudere gli argomenti che abbiamo trattato durante l'anno quando abbiamo parlato del railroad abbiamo visto che la cosa più importante è non spezzare il binario cioè non mettersi in una condizione per cui la quest viene bloccata a meno che non ci siano delle forzature lungo la linea narrativa da parte del master cosa fare però quando nonostante i vostri sforzi la linea narrativa deraglia e gli avventurieri vengono messi in una situazione di non avere nulla da fare e voi come master siete costretti a forzare le cose cominciamo col ribadire una delle regole fondamentali del masteraggio l'azione non si deve mai fermare e gli avventurieri devono avere sempre qualcosa da fare per quanto voi come master vi sforziate di mantenere una verosimiglianza dell'azione e una coerenza interna nel mondo di gioco nel mondo reale esistono molte situazioni in cui non si può fare nulla in una determinata situazione o semplicemente quello che si deve fare è qualcosa di estremamente lungo e estremamente noioso se voi siete qui in questo momento a guardare questo video che parla di gioco di ruolo è probabile che la cosa interessante per voi sia guardare un video sul gioco di ruolo è molto improbabile comunque che voi sareste interessati a guardare un video di 5 ore che spiega per filo e per segno come questo stesso video è stato realizzato quello che a voi interessa è il video non il lavoro che c'è dietro sarebbe più veloce se sbagliassi meno mentre registro in un ipotetica quest di un gioco di ruolo tutta la parte di lavorazione del video verrebbe tagliata da autorità dal master perché è un'attività che non riguarda l'azione di gioco ed è scarsamente interessante per i giocatori quando i personaggi sono impegnati in attività che non sono interessanti per i loro giocatori o che non richiedono alcun processo di decisioni attive da parte dei giocatori per il master è perfettamente lecito tagliare la cosa con frasi tipo dopo qualche settimana di viaggio l'astronave esce dall'iperspazio e dagli oblò vedete il pianeta di destinazione o dopo molte ore di ricerca nella biblioteca trovate finalmente il tomo magico che state cercando e saltare direttamente avanti nel tempo al momento e la quest in cui effettivamente per i giocatori ritornano esserci delle cose interessanti da fare può succedere però che le azioni stesse del tavolo portino la campagna a incastrarsi in delle situazioni in cui le cose interessanti da fare scarseggino questo potrebbe essere dovuto a una cattiva gestione del railroad da parte del master il classico caso in cui ha inserito una scena all'interno della linea narrativa per cui esiste una sola uscita possibile ma che i giocatori per qualche motivo non sono in grado di imbroccare per superare la porta d'entrata del dungeon della morte bisogna bisogna risolvere l'enigma della sfinge il fatto però è che i giocatori non riescono a risolvere l'enigma e quindi non possono entrare nel dungeon bloccando tutto il resto della storia di questo abbiamo già discusso quando abbiamo parlato di railroad vi metto il link qua in alto se dovete andarvi a recuperare non stiamo a ripeterlo ma è anche possibile che siano i giocatori stessi a chiudersi in dei vicoli senza uscita all'interno della linea narrativa semplicemente perché hanno frainteso una situazione hanno cercato di fare qualcosa che non erano in grado o perché semplicemente hanno fatto quello che i giocatori fanno da sempre cioè intrapreso una linea d'azione che era totalmente imprevedibile da parte del master andiamo nella pratica una delle situazioni più classiche che mentre gli avventurieri sono al villaggio per fare soldi velocemente decidono che potrebbero andare a rapinare la banca il master si era preparato tutt'altro e dava per scontato che il passaggio al villaggio fosse solo un modo per gli avventurieri per comprare equipaggiamenti e ricaricare le loro risorse consumabili in generale non si aspettava di dover inserire una cosa del genere magari ha semplicemente descritto la presenza di una banca per fare colore non è comunque un gran danno improvvisare un paio di guardie della banca è qualcosa di molto veloce il master può riciclarsi qualsiasi tipo di combattente da un incontro precedente semplicemente descrivendolo con una guardia giurata e il tesoro presente in una banca sicuramente non è qualcosa di complesso in risorse particolari o oggetti particolarmente interessanti saranno molto semplicemente dei sacchi pieni di denaro quale sarebbe però l'esito più interessante per una scena improvvisata del genere probabilmente il primo istinto di molti master sarebbe quello di mettere all'interno della banca un qualche tipo di difesa che i giocatori non possono superare per far fallire la situazione ma questo sicuramente non sarebbe interessante per i giocatori nel peggiore dei casi finirebbe semplicemente morti interrompendo la campagna e nel migliore dei casi verrebbero arrestati costringendo poi il master a improvvisare una prigione degli interrogatori molto probabilmente altre attività noiose e che hanno anche il rischio di deragliare completamente la campagna causando una nuova situazione iniziale ovviamente il master non può neanche fare finta di nulla e lasciar semplicemente vincere i giocatori non è interessante vincere troppo facilmente e andrebbe anche a eledere la coerenza del mondo soprattutto priverebbe i giocatori della capacità di influenzare attivamente il mondo che è fondamentale in un gioco di ruolo la cosa migliore da fare a questo punto sarebbe fornire ai giocatori uno scontro relativamente facile da vincere ma che gli fornisca qualcosa di interessante da fare sul momento poi con calma finita sessione progettare un png ricorrente magari un cacciatore di taglie un ufficiale di polizia qualcosa del genere che sia sulle tracce dei giocatori per riprendersi il volto per arrestarli quello che è in questo modo non solo il master ha qualcosa di immediatamente interessante da far fare ai giocatori per far proseguire l'azione ma anche elementi che potrebbero fornirgli una linea narrativa secondaria o un secondo filone di trama accumulando materiale per rendere più interessante anche le sessioni future l'importante è che quando vi ritroverete in delle situazioni di blocco non agiate distinto per impedire ai giocatori di provocarle perché questo le della loro autorità né al contrario cercate di fare la cosa più coerente con l'ambientazione la cosa più verosimile anche se un termine sbagliato e lasciar procedere la narrazione verso una zona noiosa e poco interessante prendetevi un attimo di tempo riflettete su quale potrebbe essere l'esito più interessante più curioso potrebbe essere l'esito più grammatico potrebbe anche essere l'esito più buffo dipende dal tipo di campagna del vostro stile come master comunque riflettete su quale sarà l'esito più interessante che vi servirà per portare contenuti nel gioco sia immediatamente sia nel lungo periodo diciamo che per questo video è tutto come sempre mi piacerebbe sapere da voi come fate a gestire questo genere di situazioni o come ha fatto a gestire il vostro master nel caso siate i giocatori come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video io sono il master kai noi ci rivediamo al prossimo video